Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra il bivio per la 11 e il bivio per la variante di Valico. Per un veicolo in avaria, rallentamenti tra Valdichiana e Monte San Savino e tra Arezzo e Valdarno. Sulla FIPILI per viabilità esterna che non riceve rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Chiudiamo con i treni per un guasto agli impianti di circolazione tra le estrazioni di Granaiolo e Certaldo. Sulla linea Empoli-Siena potranno esserci ritardi, modifiche e cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!